Sì, seconde, abbiamo proposto un ciclo di cinque incontri in cui è stato narrato l'Orlando Furioso. L'attività è piaciuta tanto, i ragazzi hanno risposto bene, erano incuriositi, anzi aspettavano di proseguire da una volta all'altra per sapere come andava la storia. Rispetto alla lettura dell'Orlando Furioso in classe è molto più partecipata perché il fatto che sia raccontata in maniera semplice è più accattivante per loro e anche più chiara. E quindi abbiamo visto già negli anni precedenti che rimane molto anche poi con la verifica che facciamo e quindi l'abbiamo riproposta e pensiamo di riproporla anche per i prossimi anni.